Era doveroso presentare il nostro main sponsor Allora voglio ringraziare tutta la Sciarra S.P.A. e la persona innanzitutto di Gabriele Sciarra che è l'amministratore unico, tutti i dipendenti, soprattutto Rita che ha gestito questa trattativa Devo dire che abbiamo girato tanto in queste settimane per cercare un'azienda del territorio perché lavoriamo del territorio che potesse affiancare il nome alla San Benedettese Abbiamo ricevuto tanti no e quindi a maggior ragione questa decisione da parte del signor Sciarra di sponsorizzare la San Benedettese direi che metta davvero un applauso da parte di tutta la città e tutti voi che siete qui perché da un po' di anni non ricordo sulle magliette della San Benedettese uno sponsor di San Benedetto del Tronto Allora io lascio la parola al signor Gabriele Sciarra e ovviamente al Presidente Boniti e al Presidente Pulci per quelli che sono un po' i saluti e le considerazioni su questa sponsorizzazione Scusate l'emozione ma non sono abituato fino a qualche giorno fa neanche pensavo di poter realizzare questo sogno. Io ringrazio innanzitutto Stefano e la società, i Presidenti Pulci e Moneni che mi hanno dato la possibilità di rappresentare con il mio nome la San Benedettese. Ovviamente nel momento in cui sono stato interpellato penso che mi sono preso, ci siamo presi 24 ore di tempo per prendere questa decisione e l'orgoglio che mi ha creato nel pensare che la San Benedettese avesse scelto o avesse scelto fra i nomi quello della mia azienda non mi ha fatto essere titubante oggi, quindi l'ho accettato immediatamente e sono chiaro e orgoglioso di poter aver dato una mano a San Benedettese. Non so se ci sono domande. Come diceva però, ci sono zappini di tuo padre. Allora, questo devo essere sincero è stato un regalo anche che mi sono permesso di fare con tanto coraggio a mio padre perché mio padre l'ha saputo solo esclusivamente dopo aver setto la mano a Stefano. Era secondo me il modo migliore per ringraziare mio padre dopo tutto quello che aveva dato a me, dopo quello che lui aveva dato alla San Benedettese nel passato e per ringraziarlo e festeggiare i 50 anni che il prossimo anno noi festeggeremo con la nostra società. Quindi mio padre onestamente non ha saputo mai nulla prima e non ho avuto qui lato, anche perché la trattativa è stata talmente veloce che mi sono preso 24 ore e ho pensato da solo e anche dormendo poco quella notte, quindi ho preferito dormire lato e prendere subito la decisione. Dopo me l'ha saputo? Dopo me l'ha saputo, penso che sono tre giorni che piange, anche adesso aspettavo una mia telefonata perché è anche un po' di autore di cuore, quindi sapevo soltanto il risultato del primo tempo e ovviamente saluto a tutti e ringrazio anche ancora la società per aver pensato alla nostra novità. Allora adesso lascio la parola dove iniziamo. Buonasera a tutti. I ringraziamenti di cuore vanno veramente da parte nostra, caro Capriere. Ringraziamenti perché oggi come oggi mettere su, come ha detto Penedo, in 24 ore, una proposta commerciale e chiudere con la scontolazione per quanto riguarda i miei sponsor in questa splendida città è veramente bello e soprattutto a noi ci dà molta fiducia e molto entusiasmo. Quindi a nome mio, a nome di Gianni, a nome di tutto il club vanno veramente i ringraziamenti a te, alla tua famiglia e a tutto il tuo gruppo. Gabriele lo conoscete penso meglio di me, io ho avuto l'opportunità e il piacere di conoscerlo oggi lui e la sua famiglia e ho capito subito, ho visto subito che è una persona seria, una persona per bene e veramente ha voluto fare questa sponsorizzazione, come ha detto lui, l'ha fatta con passione, l'ha fatta con volontà. Quindi ancora va bene i nostri ringraziamenti. Io, come ho detto anche oggi al nostro amico Gabriele, spero, spero, che lui sia un po' da privista. Da privista nei confronti nostri, di Gianni Moridi, da parte di tutta la città o anche da altre parti di imprenditori, piccole e medie imprese, che sia una privista di fiducia. Gabriele Sciarra e la sua famiglia hanno dato fiducia a questo club, hanno dato fiducia, ha sottoscritto a Gianni Moridi. Quindi speriamo che anche si risvegli oppure ci sia un scatto, una molla in più, anche per altre realtà in primi locali. Noi non obbligiamo nessuno, non è che siamo che ad obbligare e non vogliamo obbligare nessuno, anche perché sappiamo tutti i momenti in cui stiamo vivendo. Quindi noi non vogliamo vivere nessuno. Però, ecco, ci teniamo e speriamo che ci sia da oggi soprattutto quella fiducia nei nostri confronti che speriamo di legarcela e poi anche dimostrarla sul campo. Quindi grazie ancora. Passo da prologi a Gianni, grazie. Ringrazio di nuovo anche io la ditta Sciarra che ci ha affiancato in questa avventura. Per chi non lo sapesse ha richiesto anche un'opzione per il prossimo anno. Non sanno che dovranno pagare un sacco di soldi di più perché noi il prossimo anno staremo in un'altra categoria. Ma devo dire che Sciarra porta bene, questo è il discorso, perché la prima partita 4-0 è andata bene. Quindi io vorrei ringraziare sia lui che è stato il nostro primo mai sponsor di Maglia qui a San Benedetto. Ringrazio anche gli amici della Gatorade, tutti quelli che hanno creduto e credendo in noi e anche tanti altri che sono limitati e che stanno arrivando. Quindi buona la prima, grazie alla curva, al pubblico, è stato fantastico. Abbiamo superiato di 3.000 e rotte, quindi siamo tornati quasi a dove dobbiamo tornare. Quindi un grazie a tutti e credo che sia l'obbligo che la Sciarra porti la maglietta al papà. Va bene? Grazie. 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 Grazie a tutti.